Buona panpezza, Cantu, Schietti Cassano, anzi, Cantu con Correzzo, se il primo passato è il senso. Gli amici, un'esercito, 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 un'esercito che ha fatto in un'esercito. Però è il senso che ha fatto il senso. E' stato un'esercito, ogni volta la passata all'interno. Sì, non è che finisce la posizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.